Avverto come particolarmente oppressiva la cappa della mancanza di progettualità, la mancanza di speranza, di ideali. Non vale la pena resistere al senso di disumanità che purtroppo è imperante. Vale la pena resistere alla cattiva musica, ai cattivi pensieri, alla cattiva politica, tutto quello che ci tira verso il brutto, verso gli istinti brutti. Grazie per la visione!